dunque da oggi è possibile eseguire direttamente tutti gli aggiornamenti delle attività che svolgo delle attività del governo attraverso whatsapp è un altro modo per comunicare direttamente se siete interessati ad avere questi aggiornamenti dovete cliccare sul link di iscrizione attivare le notifiche la famosa campanella e poi se volete anche aiutarci diciamo a fare un po di passaparola su questo nuovo strumento io penso che sia sempre utile per me è certamente sempre utile avere la possibilità di parlare direttamente agli italiani